La TEP vuole esternalizzare i servizi EpiBus e Prontobus. È una delle proposte che il presidente Rubini ha presentato al tavolo dei sindacati, appaltare all'esterno il servizio di autobus a chiamata e il servizio di trasporto scolastico confermate dedicate ad accompagnatori. A dirlo è fare per fermare il declino e non è l'unica novità. Dai dirigenti dell'azienda, dice il movimento politico, arriva anche l'idea di premiare con incentivi economici i controllori che fanno più sanzioni, ma solo nel caso in cui le contravvenzioni vadano a buon fine. Secondo i manager pubblici di TEP, le multe alle persone senza documenti e a chi dà generalità false, a chi poi non paga, non vanno conteggiate per gli incentivi. Come dire, meglio concentrarsi su chi può pagare. Una terza novità messa sul piatto è quella di accorciare i tempi nella preparazione degli autobus. Ora gli autisti hanno a disposizione nove minuti prima di uscire dal deposito. Troppi, secondo l'azienda. Fare per fermare il declino si chiede se il presidente di TEP, Mirko Rubini, nominato dai Cinque Stelle, le stia provando tutte per attirare su di sé l'attenzione e le critiche dei dipendenti. Dopo la vicenda dei maxibus d'oro fermi danni al deposito di Via Taro, problema tuttora irrisolto. Dopo le polemiche per i tripli incarichi e l'impegno part-time, ecco nuovi argomenti che preoccupano i lavoratori dell'azienda. Anche se il confronto è appena iniziato e si sta parlando di proposte, non si capisce, secondo fare, dove sia il vantaggio di appaltare all'esterno i servizi happy bus e pronto bus, con costi ulteriori, quando ci sono già all'interno di TEP dipendenti per farlo. Il rischio è che i 30 autisti che svolgono oggi il servizio diventino di troppo e finiscano in esubero.